Che cos'è una cosa? E che cos'è è? E quando quella cosa che è una cosa è è? È? Io dovrei essere Massimo. Io potrei essere Adrian. Ma questo di certo è Mentecast. Allora Adrian, oggi parleremo di un concetto filosofico. La nave di Teseo. Ah, innanzitutto chi è Teseo? Ah, Teseo è questo re greco, mitologico. Dei mitologici re greci, ce ne sono una totalità. Sì, ce n'è un bel tot, ce n'è un bel tot. Però questo è quello lì famoso del Minotauro, quello di Arianna, che poi ha la pianta in asso, eccetera. In particolare Teseo si spostava a bordo di un oggetto che era una nave. Una nave che è quella di Teseo. E di questa proprietà, cioè quella nave essere di Teseo, parleremo oggi. Sì, il paradosso della nave di Teseo questiona proprio il fatto che l'oggetto sia effettivamente quello, nonostante le eventuali mutazioni che ci possano essere. La prima, diciamo, formula attraverso il quale il paradosso di Teseo ci arriva è quella di Teseo, avventuriero, che naviga da un'isoletta all'altra. Nel Mediterraneo. Esatto, nel Mediterraneo. E siccome lui ha i soldi, si customizza la nave, sostituisce il timone, sostituisce la marmita, gli specchietti, la carena a specchio. Le minigonne sotto. Esatto, le massette. E la domanda è, la nave di Teseo è ancora tale se tutti i pezzi sono stati cambiati? Il secondo, la seconda formula con cui ci arriva questo paradosso è quello che ci arriva da Plutarco, ovvero, la nave di Teseo, Teseo è morto, la nave di Teseo è morto. No, stava male? Eh, peccato. Insomma, Teseo è morto. Teseo è morto, la sua nave è un monumento, fondamentalmente, nel porto della città di Atene. E le assi di questa nave vengono gradualmente sostituite, un po' perché marciscono con il tempo, un po' perché qualcuno, per prendersi un souvenir, si ruba un pezzetto di nave. E quindi, quando la nave è sostituita nella sua interezza, è ancora la nave di Teseo? Eh sì, proprio la domanda è in che punto della nave si trova la sua essenza, la sua qualità di essere proprio quella nave lì. E sostituire queste parti in fisio a questo tipo di ragionamento e questa localizzazione dell'essere. E poi c'è un'ultima versione, un'ultima versione che è di Thomas Hobbes, filosofo matematico, che ha voluto complicare ulteriormente la faccenda. Perché se ne sentiva il bisogno. Assolutamente, ovvero, Teseo, la nostra prima versione di Teseo che si customizza la nave, e quindi sostituisce gradualmente i pezzi una alla volta, è inseguito da uno stalker. E mentre Teseo mette i pezzettini nuovi e butta a mare quelli vecchi, c'è dietro questo personaggio che raccoglie i pezzi vecchi e ricostruisce la nave di Teseo con i vecchi pezzi. Quindi alla fine avremo due navi. Pensa. Quella sulla quale effettivamente sta navigando Teseo e quella dello stalker. Qual è la vera nave di Teseo? Eh sì. Quindi è sempre gradualmente, abbiamo sempre messo in discussione maggiormente il nostro modo di ragionare. È una domanda ontologica, cioè è una domanda sull'essere. È imparagonabile a perché la notte è nera, perché il gatto è morto, e questo... Stava male come... Stava male esattamente come Teseo. L'idea è questa, è una domanda sull'essere, profondamente sull'essere. E in parte è una domanda anche un po' sulla semantica, perché in realtà poi ci questioniamo anche la corrispondenza tra la parola e l'oggetto che stiamo cercando di descrivere. Anche cosa vuol dire è, proprio linguisticamente. Esatto. Dove noi riponiamo il concetto di essere. C'è una piccola corrispondenza con il paradosso del sorrito. Il paradosso del sorrito è il paradosso del mucchietto di sabbia. Se io tolgo un granello alla volta, quando è che il mucchietto non è più un mucchietto? C'è un numero che definisce la parola mucchio. No. Così come la storia del girino che diventa rana. Tu fai migliaia di foto a un girino nella fase delle sue metamorfosi, lui gradualmente diventa rana, ma in che fotogramma cambia essere, smette di essere una cosa e inizia ad essere l'altra? Sempre la stessa domanda posta in centomila modi. E non è soltanto esercizio di filosofia, perché in effetti nella nostra storia è successo mille volte di ricorrere a queste immagini per spiegare dei fenomeni, per farsi delle domande, anche di valore legale. C'è una questione che in realtà ci riguarda noi, strettamente nella nostra quotidianità, ovvero che il nostro corpo si rigenera quasi interamente in una distanza di tempo variabile per ogni singola parte del corpo. Cioè sono quelle che corrono di più, quelle che corrono di meno, ma se tu aspetti abbastanza a lungo puoi dire di essere qualcosa di interamente nuovo. Sì, poi effettivamente. Interamente, poi per modo di dire, però sì. Sono solo un paio di cose nel nostro corpo che non si rigenerano, una parte è il bulboculare e l'altra è i denti che si consumano e non ricrescono. Però in effetti sì, lo smalto non è anche tutto il dente, però sì, ipoteticamente è questo. Se abbiamo, ad esempio, l'epitelio dell'intestino ogni cinque giorni è totalmente nuovo, ma per rinnovare lo scheleto dobbiamo aspettare una decina di anni, statisticamente. Però resta il fatto che se io aspetto una ventina di anni, io direi che sono abbastanza certo di essere tutto nuovo. E in effetti non sono stato io a uccidere quelle donne. Ho come l'impressione che non te lo accetteranno in corte. Non ho già accettato. E farai bene ad essere d'accordo. E non solo, ma anche storie, storie, perché in tribunale ci sono andate anche le Sugar Babes, una ricchissima, culturalmente influentissima band inglese di fanciulle che cantavano delle canzoni super pop. E che con questo nome sono... era un trio di ragazze e cantanti che però sono state tutte sostituite con gli Andare degli Anni. Ma poi le tre originali sono rimesse insieme fondando un nuovo gruppo e dicendo no, noi siamo le Sugar Babes. E quale dei due gruppi? Beh, in effetti lì la questione è un po' meno annosa perché di mezzo ci stanno le case discografiche e i loro mazzi di avvocati che mettono dei paletti ben prima che queste cose diventino un problema. Non è stato problematico, però insomma anche un altro gruppo storico, gli Yes, in realtà la formazione che vediamo adesso, da quando è morto Chris Squire, che era il bassista fondatore, in realtà è una band completamente diversa. Tra l'altro una cosa che ho imparato ricercando questa puntata perché io pensavo che Steve Ho, il chitarrista, fosse uno dei membri originari, invece non lo avevo. Sono rimasto abbastanza scioccato. Però la domanda in realtà si estende al concetto di musica stessa perché noi nella storia del ventesimo secolo abbiamo visto una progressione della composizione e del concetto stesso di musica. che è progredito in maniera diciamo per sottrazione, ovvero si è cominciato a togliere, ovvero la musica lo sappiamo, ritmo, melodia, armonia, suono e timbrica. Però i compositori più contemporanei hanno cominciato a togliere, hanno cominciato a togliere la melodia, hanno cominciato a togliere l'armonia, hanno lasciato magari soltanto la caratteristica timbrica, fino ad arrivare a nostro John Cage e i suoi 4.33 che sono 4 minuti e 33 di silenzio. Ma chi ha detto che quella non è musica in effetti? C'è qualcuno che ha tentato di rispondere a questa cosa, nel senso che effettivamente se tu sei, entri in un negozio e nel negozio non c'è nessun suono, non è che ti viene da dire Ah però è bello questo, questo adesso lo vado su Spotify e lo compro. No. Spotify nel caso è compromette caso. Casomai, casomai. E a nessuno gli verrebbe in mente una cosa del genere. Perché è considerata ancora musica? È considerata ancora musica perché in realtà la risposta che mi ha convinto di più è che noi si sta andando in un luogo dove si suppone che ci sia un concerto. E quindi quale che sia il prodotto al quale veniamo esposti, quale che sia l'opera alla quale veniamo esposti, in realtà la consideriamo musica perché siamo andati con l'intenzione di ascoltare musica. E ti dirò che mi fai venire in mente che il Parallosso di Analiteseo stesso, proprio per come è formulato da Hobbes, Plutarco e Compagnia Bella, in effetti ha avuto delle proposte di risoluzione, ma a me personalmente mi ha convinto soltanto una di quelle che ho trovato che è la, cito, radicale impermanenza dell'oggetto. E cioè il fatto che quell'oggetto non è mai stato di Teseo, cioè questo non significa che quell'oggetto sia quello e non c'è un secondo in cui quell'oggetto sia lo stesso. Ok? E come il Pantarei che tutto scorre, sei tu che credi che quello sia lo stesso fiume quando invece l'acqua è totalmente... Non bagni mai due volte nello stesso fiume, la famosa fiume. E quindi chi è che dice che quello è di Teseo? Le persone che personalmente associano il concetto di quello che stanno vedendo a proprietà di Teseo. Ma noi andiamo incontro in effetti a questo problema anche quando andiamo nelle urne a votare perché in effetti... Pensavo a morire. Nelle urne a morire. No, perché? Cosa succede? Succede che ci troviamo a votare dei partiti che rappresentano un'idea ma ne hanno tolti tutti gli elementi. Votiamo a sinistra ma la sinistra non difende più i lavoratori, non difende più la pubblica educazione e la sanità pubblica e quindi è ancora a sinistra, chi può dirlo? E non solo, perché anche nella fiction si parla un sacco di queste storie. Mi viene in mente Asimov, Asimov l'uomo bicentenario, robot che sviluppato con un'intelligenza propria inventa organi per fare protesi per gli umani, dopodiché si riempie il corpo di queste fino a sostituire se stesso con parti che in effetti quando si trovano negli umani non vanno a inficiare la natura della persona in cui si trovano. Quindi dopo un po' tutti gli umani riescono a riconoscerlo come parte dell'umanità anche lui. Perché alla fine è pienamente umano e... E infatti crepa. Muore. Questo è Asimov. Lo abbiamo nemmeno. Guarda qua. È l'Isa. Sta l'Isa. E Futurama che tra l'altro da Asimov prende a piene mani e infatti vediamo Conrad Hermes che è il burocrate della... Proprio lui. Della nostra compagnia e lui per diventare un burocratio più efficiente... Sempre più competitivo sulla burocrazia. Si fa sostituire pezzi di corpo del rebò e infatti dietro c'è uno stalker che è Zoidberg che riassembla una marionetta con i suoi pezzi di casa. Va a recuperare i pezzi dentro al cassonetto. Meraviglioso. L'ultima interpretazione è un po'... Sui Genis ce la dà Hofstadter nel suo libro L'eterna Ghirlanda Brillante, G&B. Libro mostruoso. Forse è iniziato... Mille volte finita nessuna. No, una volta sì. Quando ho cominciato dalla terz'ultima parte. Però sì, in effetti non so quello che è successo nel frattempo. Non mi ricordo. No, però lui lo dice anche negli Anelli dell'Io che è una versione oltre che ridotta, è molto più romanzata e molto più godibile dei suoi concetti. Riguardano l'identità, l'essere, la persona e l'Io. E tra queste cose lui sostiene quello che praticamente è l'adattazione della nave di Teseo al teletrasporto. Lui dice, immaginiamo una macchina che legge lo stato di qualsiasi atomo che mi compone. Ma mi smonta, letteralmente, atomo dopo atomo. Manda poi le informazioni su queste particelle nell'altra versione della macchina che ci sta su Marte che invece rimette gli atomi al loro posto seguendo tutte le istruzioni date dalla prima parte. La persona che si sveglia su Marte, che funziona e viva perché è una macchina che sta funzionando con gli atomi al posto giusto, si sveglia e l'ultima cosa che sa è che ha avviso gli occhi quando era sulla Terra e le aree aperte su Marte. Certo. Ok, quindi per lui la situazione nasce in quel momento e lui si è solo spostato. Ma se, come nel caso dello Stalker, la seconda macchina riesce a fare lo stesso lavoro senza che sia necessaria la distruzione del primo corpo, in effetti avremo due massimo, uno dei quali si sveglia e dice non è successo niente, sono ancora sulla Terra e il secondo dice ho viaggiato, sono su Marte e tutti e due crederebbero di essere me. Certo. È The Prestige. È la... Bravissima. Il dilemma di The Prestige. Esattamente. Eh sì, c'è una... in realtà c'è una risposta pratica a questa domanda, è la risposta che danno le assicurazioni. Le assicurazioni auto, se ti beccano ad aver modificato la tua macchina senza averlo dichiarato, senza diciamo avere l'autorizzazione, hai fatto un incidente e non ti pagano. Ho capito, quindi lo decide la Fiat. Quindi ipoteticamente decide forse l'INA. L'INA Sitalia. E quindi se il nostro Teseo con la sua nave customizzata avesse investito una vecchia che attraversava da un'isola all'altra, nessuno gli avrebbe pagato. Nessuno gli avrebbe pagato. Ma... Ed ora, con audio cambiato o meno, per motivi che forse non saprete mai, Ursulo ha qualcosa da dirvi. Iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale, questo perché non volete perdere nuove puntate, volete anche avere la campanellina pronta, volete commentare, dandoci idee, suggerimenti, dubbi, anzi a necessità, dandoci, non so, dei trucchi su come... dei trucchi, dei trucchi sull'eyeliner, dei trucchi... Ma proprio anche mandandoci dei trucchi, cioè proprio... Sì, 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 tra l'altro costano un casino, dovreste proprio regalarceli. Siamo su Spotify, siamo su YouTube, come probabilmente molti sapranno, siamo su Facebook, su Instagram, su Twitter, siamo... dove altro? Soundcloud. E... siamo anche in quei posti dove si chiedono le fonti. Fonti. Nello specifico non sono tantissime questa volta. Questo libro è di Michael Clarke, I Paradossi dalla Zeta, e Metaphysicist.com, che ha un articolo su Puzzles Ship The Zeus, e Does Your Body Replaces Itself Every Seven Years, su Curiosity.com. Thank you! Ramaphonen!